Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, beh dopo il match tennistico al Bentegodi di Verona non possiamo non fare le pagelle su questa partita, devo scusarmi perché nel resoconto dando retta a uno dei soliti giovani YouTuber mi ha detto ma fallo anche senza il tuo microfono Wi-Fi il video che si sente benissimo, ovviamente ho fatto così, gli ho dato retta e avete scritto in una decina che non lo sentite bene, io lo sentivo bene però certamente è meglio col microfono Wi-Fi, quindi i giovani YouTuber via, grazie perché mi danno sempre dei consigli apposta per farmi sbagliare, porca miseria. Allora match tennistico a Verona 6 a 0, siamo tutti anche troppo soddisfatti, bisogna stare sul pezzo, però prima di vedere le pagelle, le belle pagelle, perché me le gusto, perché torno a dire non è giusto, mi dedico sempre questa cosa ai cosiddetti intertristi, non è giusto che una delusione come e ne sono accadute tante quest'anno debba durare una vita e una gioia o un secondo e quindi adesso ci gustiamo alle pagelle amici miei, però siccome il 4 maggio è tutta una cosa molto seria al di là delle battute, fatemi dedicare, lo faccio ogni anno, il mio ricordo commosso all'unica squadra nella storia per la quale io scomodo anziché la parola tifo, la parola fede. Sto parlando del grande Torino, il grande Torino che si schiantò in un incidente aereo proprio il 4 maggio del 1949. Sapete che io non sono granata, ma siccome il calcio lo studio, il grande Torino è secondo me la squadra più affascinante di tutti i tempi e quindi, ripeto, non da granata ma con il massimo rispetto, a parte che sono stato a Superga, ma sono stato anche all'Aisel, lo chiarisco subito, sono stato anche all'Aisel a rendere omaggio a Bruxelles, alle vittime di quella che è stata la più grave tragedia sportiva italiana. Però siccome è il 4 maggio, dedico quindi un pensiero commosso al grande Torino che ha reso il nostro paese, il calcio italiano, orgoglioso nei secoli dei secoli. Ripeto, l'unica squadra per la quale io, quel grande Torino, posso accettare la parola fede in una cosa così profana come è il mondo del pallone. E adesso veniamo a noi. Allora, siamo già mentalizzati su Roma Inter, allora vi dico subito che a quanto so io, Mourinho, malgrado abbia dato di matto contro Kiffi, non sarà squalificato, il nostro ex secondo me riuscirà ad essere in panchina, perché come sempre con i tempi elefantiaci della giustizia sportiva italiana non si arriva in tempo, ma non lo desidero nemmeno che non ci sia Mourinho, anche perché io ho sempre pensato e sempre penserò che in campo ci vanno i giocatori. Quindi non è che se non c'è il bravo allenatore in panchina, oddio, io penso che l'Inter debba concentrarsi sul giocare bene a Roma, all'Olimpico. Contemporaneamente c'è Milan-Lazio, capite che è una giornata fondamentale anche perché poi saremo condizionati sia noi che il Milan, ma anche la Roma, credo, dalle Cuppe, l'unica che non ha condizionamenti è la Lazio, saremo condizionati ovviamente dall'Euroderby noi interisti e milanisti. Quindi che cosa aspettarsi? Certo il Milan si è inceppato con la Cremonese, l'Inter ha fatto sei gol a Verona e quindi noi adesso pensiamo che vinceremo anche a Roma e il Milan si incepperà con la Lazio, sapete bene che non è mai così. Certo che però se l'Inter dovesse davvero fare tre punti a Roma in questo momento la squadra sta bene e Milan e Lazio dovessero pareggiare, cominceremmo a metterci per quanto riguarda la zona Champions perché poi ne mancheranno quattro ma ne abbiamo anche la finale di Coppa Italia, abbiamo il Napoli, abbiamo l'Atalanta al di là del Napoli campione ragazzi, cioè bisogna stare sul pezzo. Però stavo dicendo gustiamoci adesso le pagelle di un risultato tennistico. Andanovic a sei e mezzo per la parata su Verdi, D'Ambrosio sei vicino al gol a sua volta sullo 0-0, ogni tanto pasticciato con la palla, ma comunque sufficiente. Darmian devo dire sei ma anche sei e mezzo se volete, lui è sempre presente insomma e devo dire che il giudizio per lui è sempre positivo. De Vrij sei e mezzo, è stato autorevole e devo dire che ha provato anche lui a segnare prima dell'autorete di Adolfo Gaic. A Cerbi sei e mezzo, l'assist del 5-0 a Dzeko e sempre tanta sostanza sul centro-sinistro. Dunfris sei, sbagliato un po' meno del solito. Dal 65esimo Mattia Zanotti sei, è entrato a gara serena, già archiviata ed è stato sereno pure lui. Mkhitaryan sette, la solita qualità e quantità, con un paio tra l'altro di tentativi anche di andare in gol. Dal 65esimo il vostro amico Roberto Gagliardini, gli do sei, anche lui è entrato a gara finita, ma è stato assolutamente ordinato. Cominciamo con i voti alti. Brozovic a sette e mezzo, tornato veramente giocatore di alta statura, veramente una regia perfetta, gli interscambi con lui e Ciananoglu perfetti, poi due assist pure nella sua partita. Io credo che l'Inter migliore, con tutto il bene che voglio a Mkhitaryan, al quale do un voto altissimo, vede insieme Brozovic e Ciananoglu. Poi possiamo discutere in altre partite, ma insomma quando mi dicevano uno o l'altro mi veniva anche un po' da ridere. Dal 77esimo Aslani sei, è entrato anche lui a partita archiviata, devo dire tranquillo. Allora Brozovic sette e mezzo, Ciananoglu anche lui sette e mezzo. Ragazzi il gol che ha fatto è da sigla televisiva, ha indirizzato la gara, è stato veramente una meraviglia anche nel dominio a centrocampo. Per carità era il Verona, ma è il Verona che si deve salvare, quante volte questo genere di partite l'Inter le ha sbagliate. Di Marco sette, da lui è arrivato il pallone che Adolfo Gaic ha messo nella sua porta. Mi sembra che anche Di Marco sia tornato a stare bene, quindi sette. Dal 57esimo Raul Bellanova sei, anche lui in campo a partita chiusa a me non fa impazzire Bellanova, però per carità. Ed in geco anche lui sette e mezzo come Brozovic, ripeto, e come Ciananoglu. Vi do assolutamente sette e mezzo, perché il professore è tornato al gol che mancava da gennaio, ne ha fatti pure due, pensate che nell'attacco dell'Inter era l'ultimo che doveva sbloccarsi. Lautaro Martinez sette e mezzo, come suo solito, dopo un periodo buio non si ferma più. Straordinario, naturalmente, nel momento decisivo è tornato lui il Toro. Adesso io devo sperare solo, sapete che lui poi ha ciclicamente i suoi periodi di digiuno, speriamo che lo rifinò alla fine. Pure l'assist per il primo gol dei due gol di Dzeko è suo. Insomma, praticamente, di Mkhitaryan credo di avervi detto prima, perché parlavo del sette e mezzo di Brozovic e di Ciananoglu. E Mkhitaryan gli do sette, perché solita qualità, quantità, anche lui ha fatto un paio di tentativi di andare in gol. Quindi, morale, sette e mezzo a Brozovic, sette e mezzo a Ciananoglu, sette e mezzo a Dzeko, sette e mezzo a Lautaro Martinez e, scusate, un altro sette e mezzo. Questa volta io lo do a quello che non gioca, che era in panchina Simone Inzaghi. La sua centesima panchina mi è sembrata onestamente una gara da incorniciare, ma soprattutto, sapete perché? Perché è riuscito a fare una cosa che nessuno di noi poteva credere. A far riposare completamente, guardate che di questo periodo, di questi tempi, saltare una partita, anche dal punto di vista del recupero fisico, anaerobico e tanta roba, è riuscito praticamente a far riposare per 90 minuti Onana, Bastoni, Barella e Lukaku. Perché adesso, ragazzi, c'è la Roma e poi c'è il primo dei due Euroderby, che so che siete già caldissimi. Allora, avere quattro titolari, anche il portiere, perché no? Perché mentalmente, insomma, è meglio se ogni tanto stacchi. Onana, Bastoni, Barella e Lukaku. Credo che questo sia stato un merito, ovviamente, dei ragazzi che erano in campo, ma anche di Inzaghi, che ha ingrizzato bene in questa sua centesima panchina nerazzurra, devo dire, la partita. Che devo dire? La squadra sta bene, sta benone dal punto di vista fisico, e quindi un applauso anche al suo staff, perché hanno fatto una serie di preparazioni, di richiami, di preparazione personalizzate, e mi pare che stanno funzionando. Vuoi vedere che, a differenza dello scorso, hanno l'Inter mi chiude alla grande? Insomma, diciamo la verità. Dai, allora, riesaminiamo l'ultimo periodo. Dopo il primo tempo bruttissimo ad Empoli, è quattro vittorie consecutive, tre gol a Empoli, il clean sheet, come nella semifinale di Coppa Italia, 1-0 la Juve, poi il 3-1 alla Lazio, lì non è stato clean sheet per l'errore individuale di Acerbi, e poi altri, sei gol a Verona, contro comunque una squadra che lotta per la salvezza. Insomma, si va a gonfie vele, però adesso dobbiamo aspettare la conferma, perché io, lo sapete, sono come Sant'Omaso ormai, sono di una prudenza, devo vedere, devo vedere, prima di partire, hai capito che c'è quello che inzaghi out, quando perde, inzaghi in, quando invece si vince, per non parlare della squadra, io devo vedere, adesso una grande conferma contro Murino. Sabato avremo un vantaggio, lo dico, quello di sapere il risultato di Milan-Lazio che scendono in campo alle ore 15, però sarebbe meglio non saperlo, perché non vorrei che poi la nostra prestazione a Roma fosse condizionata, magari un pareggio delle due diciamo, vabbè, andiamo anche noi col piccolo passo. Ragazzi, se si può vincere a Roma, ricordando anche come era finita l'andata, è meglio vincere, quindi ci siamo capiti, no? Quindi cerchiamo di vincere anche lì, perché a quel punto, a cinque partite dalla fine, controllando poi il vantaggio sulle dirette inseguitrici, credo che la cosa possa essere molto interessante in senso positivo, ma occhio ai capitomboli, occhio ai capitomboli, sono anch'io tentato di dirvi, cavolo, ma come sta bene sta squadra, però ragazzi, quante volte abbiamo avuto questa impressione poi frustata e frustrata dalla realtà. Quindi calmi, piedi per terra, popolo interista, Roma, Roma. Non pensate adesso alle Euroverbi, solo Roma, giallorossa. Ciao e viva l'Inter. Ilter! Ilter!